Io e Maria aprimo i regali, libri per me che avrebbe voluto leggere lei. Grazie. Gioielli per lei che avrei voluto indossare io. Perché all'improvviso mi alzai? Non lo so. Intuizione forse, solo intuizione. Ma lui non c'era. Qualcosa mi spinse verso la camera da letto. Erano tutti e due, in camera di lei. Grazie. Lui le parlava, lei le ascoltava. Non saprei dirti cosa le stava dicendo. Ma il modo in cui le parlava era il modo in cui si parla una donna. Ricordo come lei sorrideva. Vedeva lo sguardo nei suoi occhi. Lui non aveva alcun diritto di farla sorridere in quel modo.